Un contadino molto vecchio decide di scrivere una lettera aperta al figlio che si trova in carcere a San Vittore. Caro Giuseppe, purtroppo sono fatto troppo vecchio e non mi sento di zappare il giardino per cortivare le lattughe. Aspetterò con ansia il tuo ritorno dal carcere, firmato tuo padre. Arriva la risposta del figlio. Caro papà, non ti devi assolutamente preoccupare di zappare il giardino, perché io non mi ho nascosto 5 kg di droga che mi servono che la devo vendere quando io esco dal carcere. L'indomani mattina il vecchio contadino si trova una squadra dei digos che vanno nel giardino a scavare, a cercare, per cercare questa droga, ma purtroppo non trovano nulla. Dopo una settimana il vecchio contadino riceve un'altra lettera dal figlio. Caro papà, come vedi ho trovato il sistema per fare zappare il giardino. Grazie a tutti.